Ma dovete sapere che io scrivo sempre romanzi modi, cioè una storia appunto finisce, nasce e finisce. Il pubblico per spirito aumenta l'anno scorso e i miei lettori che devo dire sono molto affezionati mi chiedono subito il proseguo perché questa donna incontra questo commissario molto bello e che l'aiuta fra l'altro perché le dà un nome e ce la riconosce come dicendo lei non è una matta, lei non è una pazza, non è la strega del paese, lei è una medium perché quest'uomo è andato a lavorare a Quantico e come voi sapete bene a fine FBI molte volte in America si appoggiano a figure come queste donne o uomini che hanno delle visioni l'aereo è saputa questa cosa. Quindi quando lei finalmente si sente dare un appellativo e non si sente più dare della pazza e della strega cioè vede quest'uomo ovviamente con occhi diversi, però nel primo libro non definisco questo rapporto ma non si è un apporto molto amicale e gli hai scritto il no dai fai la storia d'amore cioè io che d'amore non so scrivere ma di sesso sì, ho pestato l'acceleratore e ho costruito una storia poi di ovviamente di sesso fra i due è stata molto bravita devo essere sincera grazie o ma d'amore no perché mi annoia in modo terrificante perché alla fine lui guarda lei e guarda lui